Cinghiali, cervi, nutrie e cornacchie grigie A pesare sul capo di migliaia di aziende agricole non basta più la crisi climatica in corso, ma come ogni anno, la fauna selvatica continua a dare il colpo di grazia alle colture, dalle orticole agli erbai, dai vignetti ai campi di grano e mais, passando per le foragere e le risaie A lanciare nuovamente l'allarme è Confagricoltura Oristano, che lamenta un aumento della selvaggina soprattutto nei territori del Sinis Spesso, ha ricordato il presidente provinciale Tonino Sanna, molti di questi animali arrivano da siti messi a riserva e a tutela faunistica Di notte vengono a nutrirsi nei nostri campi e all'alba si rifugiano di nuovo nelle aree protette, dove le compagnie venatorie non possono entrare Questi luoghi, con il passare degli anni, ospitano popolazioni di fauna selvatica sempre più in crescita e ormai insostenibili Confagricoltura chiede dunque alla regione Sardegna di intervenire, al fine di riportare i numeri di diverse specie su condizioni accettabili per gli ecosistemi circostanti Durante la giornata nazionale della sicurezza delle scuole, istituita dalla legge numero 107 del 2015 che ha come obiettivo quello di ricordare le vittime degli incidenti avvenuti nelle scuole italiane Il coordinamento, Presidenti dei Consigli d'Istituto Sardegna, ha espresso il suo giudizio Ancora oggi la sicurezza di alunne e alunni, studentesse e studenti, dirigenti scolastici, docenti e personale atta è soggetta a volontà divina Solo dal 14 settembre 2023, data di inizio delle attività scolastiche nella regione Sardegna, abbiamo assistito a numerosi crolli di soffitti interi piani interdetti per problemi più o meno gravi di stabilità La scuola, che a parole deve essere un luogo super sicuro, è invece il luogo in cui l'ansia e il timore di incidenti prevale nella stragrande maggioranza dei lavoratori e dei genitori Il coordinamento chiede a gran voce un censimento capillare dello stato di sicurezza di tutti i plessi scolastici esistenti nella regione allo scopo di arginare e prevenire brutti episodi per salvaguardia e serenità psicofisica delle centinaia di migliaia di persone che quotidianamente si trovano al loro interno I pazienti dei comuni di Cabras, Nuracchi, Baratelli San Pietro e Riola Sardo Fino a oggi seguiti dalla dottoressa Marina Matta, da martedì 12 dicembre saranno seguiti dal dottor Mauro Massa A comunicarlo è l'aslo 5 di Oristano Verrà così garantita la continuità assistenziale Non solo, i pazienti in carico alla dottoressa Matta verranno assegnati dai nostri stessi uffici al dottor Massa Intanto, da Arborea, Marrubio e Terralba, locali comunali per i medici di base I primi cittadini, Manuela Pintus, Luca Corrias e Sandro Pili hanno scritto alla direzione generale dell'ASL 5 di Oristano per mettere a disposizione un locale di proprietà dei rispettivi comuni al fine di ospitare un medico di medicina generale e un pediatra di libera scelta che intendano rispondere agli avvisi pubblicati da Ares Sardegna relativamente a due incarichi provvisori di assistenza primaria e di pediatra di libera scelta Riguardo le utenze elettriche e idriche, il relativo costo è da intendersi a totale carico degli enti ospitanti hanno affermato i primi cittadini Si apprende con soddisfazione che l'assessorato regionale ai beni culturali ha attribuito al comune di Sedilo il ragguardevole contributo di 200.000 euro per la valorizzazione del sito archeologico di Iloi, come ha spiegato il sindaco Salvatore Pes Conservazione e valorizzazione, quindi, è poi l'abbandono del giacimento al suo destino considerando che Sedilo non dispone di organismi specifici adatte alla gestione di questi beni e che i tentativi promossi per la loro costituzione si sono interrotti In sostanza, si trattava di replicare l'esperienza in atto a Macomer, a Basanta, Paoli Latino e Fordongianus dove cooperative con addetti professionalizzati garantiscono ogni giorno l'apertura dei siti e loro gestione anche attraverso attività collaterali di ospitalità A Sedilo, nonostante la presenza di due musei e di un patrimonio archeologico immenso l'approccio non si è concretizzato forse perché portato avanti senza la convinzione necessaria Resteranno invariati i tributi comunali e questo a parità di erogazione dei servizi che non subiranno modifiche Tari e Immu che restano invariati agli stessi livelli del 2023 Il Sindaco del Capologo ne ha dato notizia al Consiglio Comunale riunito nei giorni scorsi comunicando anche che la Giunta ha disposto il via libera al bilancio di previsione per il prossimo triennio In quest'ultimo scorcio del 2023 l'attività del Consiglio Comunale di Oristano sarà soprattutto incentrata a discutere e approvare documenti di natura economica e di indirizzo come il documento unico di programmazione che gli assessori hanno presentato in Consiglio ciascuno per la propria parte di competenze e a fine mese l'Assemblea Civica tornerà a riunirsi per la discussione dello stesso Chissà qual è stata la reazione posto che questa ci sia stata ai titoli comparsi due settimane fa nelle pagine della Nuova Sardegna Povertà per 113.000 famiglie sarde Nuclei familiari che non sono in grado di mantenere uno standard di vita questo da parte della politica e delle classi sociali che vivono nella giatezza quindi condizioni di indigenza per circa il 25% dei sardi è sorprende che si fatte situazioni ad esempio non inducano la costituzione di un osservatorio sulle emergenze sociali che peraltro tendono ad estendersi e stratificarsi ci deve invece pensare la Caritas che da sola ha rilevato quel dato attraverso i suoi 36 centri operanti nell'isola senza contare quanto l'analisi non denuncia cioè di quanti si rivolgono ad altri istituti e organismi un dato che inalza all'asta dei bisogni Nella sola oristana ad esempio alle 400 famiglie assistite dalla Caritas non meno di altre 200 si rivolgono ad altre associazioni se il paragone è replicato a livello regionale le fasce della povertà sono ben altre con buona pace per quanti non avvertono un'indigenza che porta all'esasperazione in occasione della festa degli alberi dello scorso 21 novembre i bambini della scuola primaria di via Amsicora hanno piantato nell'area verde della scuola 149 piante di lentisco, mirto, corbezzolo, alloro e roverella interessante iniziativa promossa dall'assessorato all'ambiente e dall'istituto comprensivo 3 in collaborazione con forestas e ceas aristanis questi alberi saranno testimoni delle avventure, delle sfide e dei successi di ogni bambino nato a Oristano nel 2022 crescendo insieme a loro e diventando un patrimonio per le generazioni future ha evidenziato il sindaco Massimiliano Sanna l'entusiasta partecipazione dei giovani alle iniziative di sensibilizzazione ai temi ambientali e in particolare a questo progetto del comune per la creazione di un nuovo polmone verde è il risultato più importante di questa giornata ha aggiunto l'assessore all'ambiente Maria Bonaria Zedda è tutto, grazie, arrivederci grazie a tutti